Stagione alle porte e balneari che mettono nel paniere delle difficoltà anche la Bolkestein con la scadenza che si avvicina. Il 31 dicembre 2023 scadranno le concessioni e tutto viene rimesso in gioco. Si riparte da capo con i nuovi bandi, ma gli operatori del mare non ci stanno, anche perché sulle spalle ci sono due anni di covid e in qualche caso anche le mareggiate hanno complicato la preparazione dell'estate 2023. Nella sede di CNA Pescara con i parlamentari si è discusso anche del Fondo Integrato per la Competitività, risorse per 380 milioni di euro. Un beneficio messo a disposizione dal Ministero del Turismo, ma il focus rimane il futuro immediato delle attività. Al momento noi chiediamo la sospensione dei termini di scadenza dell'efficacia delle concessioni fissata al 31-12-2023 per poter trattare in Europa e poter anche effettuare una mappatura che rilevi il grado di disponibilità per programmare nuove iniziative imprenditoriali e lasciar continuare, come è giusto che sia, gli attuali 30 mila concessionari italiani e i 600 concessionari abruzzesi. Non si tratta di essere contrari alle nuove concorrenze attirate dal mercato italiano, ma di rispettare alcune storicità. Le piccole imprese familiari raccontano sacrifici e vissuti, ma anche impegni economici portati avanti per anni. Tutti al bando, se necessario certo, ma con qualche paletto. La famosa sentenza Patroni Griffi prevede di attivare procedure ad hoc che tengano conto dell'esperienza, delle caratteristiche di gestione locale e dello specifico di questo settore, che non è esattamente la vendita di sali e tabacchi, ma è uno specifico riguardante la collocazione turistica. Io so come si attiva una procedura che consente il giusto risultato, nel rispetto delle regole di Bruxelles. In altre parole si va al bando, ma con un risarcimento. C'è la possibilità di dare valore a ciò che rappresenta il costituito economico degli stabilimenti, ma c'è da concepire un bando come esattamente suggerisce quella sentenza. È prevedibile comunque il percorso della proroga? Si sta analizzando in questi giorni per capire se la proroga non deve essere una proroga solamente per rimandare la palla e poi, come si dice, tiriamo a campare, ma deve essere solo funzionale per trattare con l'Europa in maniera chiara e seria e in maniera definitiva, ben sapendo che comunque stiamo parlando di una procedura complessa, di un campo minato e quindi bisogna stare molto accorti.